Buon pomeriggio a tutti amici rossonieri, ben ritrovati sul nostro canale YouTube AC Milan Inside per un nuovo video. Questa volta parleremo dei consigli del fantacalcio della giornata che si andrà a giocare e che inizierà stasera con la prima partita. I consigli sono di Domenico Manfredi, opinionista tv, volto noto di OCV Sport e collaboratore di AC Milan Inside. Ora vi andrò ad elencare partita per partita tutti i nomi che Domenico Manfredi fornisce per questa giornata, certezze, scommesse e sconsigliati. Allora iniziamo dalla partita di stasera che è Salenitana-Empoli. La certezza è Candreva, la scommessa è Cambiaghi, lo sconsigliato è Cerri. Passiamo a Cagliari-Lazio. Certezza immobile, scommessa Luvumbo, sconsigliato Mariusic. Uno dei big match, Roma-Inter. La certezza è Barella, la scommessa è Lukaku, lo sconsigliato è Mancini. Sassuolo-Torino, certezza Zapata, scommessa l'Orientè, lo sconsigliato è Consigli. Ora Fiorentina-Frosinone, il lunch match di domenica alle 12.30. Certezza Sulep, scommessa Belotti, lo sconsigliato è Martinez IV. Bologna-Lecce, certezza Zirze, scommessa Udin, lo sconsigliato è Baschirotto. Monza-Verona, certezza Colpani, scommessa Foloruscio, lo sconsigliato è Marii. Genua-Atalanta, la certezza è Scamacca, la scommessa è Reteghi, lo sconsigliato è Bani. Altro big match di giornata, il posticipo di domenica sera alle 20.45 a San Siro tra Milan e Napoli. La certezza è Olivier Giroud, la scommessa potrebbe essere Simeone, lo sconsigliato è Matteo Gabbia. Passiamo a Juventus Udinese, che si giocherà lunedì sera. La certezza è Bremer, la scommessa è Chiesa, lo sconsigliato è Luca. Questi sono i consigli che Domenico Manfredi fornisce a tutti voi per quanto riguarda questa giornata di Serie A e del fantacalcio. Io vi saluto ricordandovi di mettere il segui al nostro canale YouTube, like a questo video e come sempre Forza Milan!